Trovo un fatto assolutamente rilevante che sia il governo a dover trovare come si è impegnato le risorse per bonificare definitivamente quell'area. Vorrei ricordare del patto tradito del Presidente del Consiglio che il 14 agosto firmò un protocollo in cui si impegnò a trovare le risorse. Se magari non avesse perso questi mesi a ipotizzare e poi realizzare un commissario fuori legge probabilmente a quest'ora avremmo già chiuso tante cose, saremmo stati molto in avanti e noi siamo ancora pronti ovviamente a tornare sulla strada ordinaria che è quella del rispetto delle norme e finalmente del rilancio definitivo di Bagnoli. La magistratura fa ai suoi tempi, esercita in piena autonomia le sue funzioni e lo fa anche per preservare cornici di legalità e di difesa anche dell'ambiente. Quindi io non esprimo alcuna valutazione. Io penso che il ritardo in questo momento è soprattutto del governo perché il governo doveva attuare quel protocollo e non l'ha fatto e quello che è ancora più grave ha espropriato la città di Napoli, il comune e le sue istituzioni dal rilancio di Bagnoli. Lo si può fare insieme, uso ancora il termine al presente. Ovviamente se il governo dovesse preservare su un arbitrio normativo che è quello di ospropriare un territorio attraverso un commissariamento si rende responsabile in quel caso di ulteriori ritardi, di ulteriori effetti negativi perché ovvio che con un commissario extra legge, contra legge non si va da nessuna parte. Questo penso sia profondamente ingiusto perché queste sono condotte tra l'altro del passato, scellerate, in qualche caso probabilmente anche criminose che non possono pagare né i rappresentanti delle istituzioni che hanno cambiato verso veramente e né i cittadini che hanno pagato sulla loro pelle in qualsiasi parte del nostro paese l'emergenza rifiuti o discariche pericolose. Il tema delle discariche non è solamente Napoli o la Campania, è un tema molto più diffuso nel territorio nazionale. Noi possiamo dire di aver cambiato completamente rotta, nel senso che non abbiamo più aperto discariche, anzi le chiudiamo, non vogliamo impianti dannosi per la salute, non vogliamo più eco-mafie, non vogliamo più terra dei fughi. Abbiamo dimostrato di eliminare con mezzi ordinari l'emergenza rifiuti. È chiaro che queste multe danneggiano complessivamente soprattutto i cittadini, poi alla fine seppur bisogna individuare con precisione chi sono i responsabili perché dovrebbero pagare loro, non i cittadini.